Ecco il dito di battaglia dei nostri ragazzi. Ecco i nostri ragazzi. Chi va in panchina c'è la borsa medicinali e le borracce. Io faccio una ripresa. Non posso andare a posizionarli zio Piero. Vedete dove vuoi stare. Ecco fra pochi istanti si farà l'ingresso in campo. Virtus Castelfrentano con la maglia bianca con risvolti giallorossi. E il Chieti con la classica divisa nero-verde. Il direttore di gara è della sezione AIA di Chieti. Puoi entrare sta a posto. Puoi entrare sta a posto. Ok ok. Ecco c'è l'ingresso in campo. Si schierano a centro campo. C'è Nicolò che oggi fa il guardalini ma ha giocato ieri. Ecco. La formazione del Chieti. C'è la scelta del campo. C'è il saluto. Oggi c'è un ampio turnover e sento che qualsiasi risultato che c'è oggi non fa classifica. Quinti c'è un turnover.